domenica 31 Alex in fascelli non è potuto venire era malatissimo insomma ha detto non poteva venire però abbiamo supplito per modo di dire con un incontro straordinario con uno dei più grandi registi non solo del cinema di genere basta di parlare di cinema di genere ma direi del cinema generale che è Enzo C. Castellari bello bello come stai alla grande hai visto se si è fatto è vero siamo spondati sei andato in sala? no in sala ancora no come stai? mi è piaciuto si è fatto su questa nota bellissima vero? eh 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 Enzo Cirolami insomma è veramente una persona che ha saputo dare una boi ha saputo veramente comunicare con i ragazzi in un modo straordinario ha dato dei consigli su come fare ha dato dei consigli su come approcciarsi al mondo del cinema soprattutto ha raccontato una fase produttiva cinematografica che adesso non c'è più perché lui è comunque nei casini è nella merda perché non sa come fare a fare questo film che lui ha scritto che lui è pronto a dirigere però non trova i fondi parlando di titoli scusa sì prego parlando di Venezia e di Quentin che farà questo remake sì ah lo fa davvero però la cosa è che il mio film era intitolato Bastardi senza gloria che era poi mio il titolo che mi sembrava molto forte come titolo e mentre invece quando è finito il film e tutto esce e la distribuzione ha la grande idea di mettere il titolo quel maledetto treno blindato che vuol dire? eh punti mentre invece Unglorious Bastards come poi è uscito nel resto del mondo è la primissima cosa che ha interessato a Quentin proprio il titolo il titolo è straordinario si pensa che in Italia invece l'hanno cambiato ah 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 e quindi ecco per dire come questo titolo questo era nato come quello vorrebbe l'affare sì sì quello sì però cioè il film non so se gli è piaciuto proprio tanto tanto e il titolo sì molto beh credo che Zoba si fa un remake cioè nel senso gli sarà piaciuto ma hai avuto modo di parlarci di scambiare due chiacchiere due punti di vista e beh abbiamo stato quattro giorni su abbiamo passato quattro giorni insieme poi soprattutto il giorno dopo a pranzo quando lui stava tutto prendendo appunti perché era la prima volta che lui lo vedeva sullo schermo perché l'aveva visto sempre un DVD o in cassetta e quindi la prima volta poi insieme a me quindi mi chiedeva questo come l'ha fatto dove l'ha fatto ma il giorno dopo è stato straordinario al ristorante lui ci aveva preso tutti gli appunti su come avrebbe modificato quali erano le cose che gli erano piaciute di più del film e poi mi ha raccontato l'inizio sì, ora lo racconto a voi vabbè, dai, dai però scusa, ti abbiamo portato un'altra bottiglia di vino dai no, cosa ti ha detto? no, è un inizio tarantiniano tra i più straordinari straordinari penso per un film di guerra c'è una cosa che io personalmente sono appassionato di film di guerra e poi abbiamo Umberto Lenzi pure che di film di guerra se ne intende bene una cosa del genere non è mai successa che un inizio di film parlasse di un gruppo di Marines di origine Siu che nella lotta contro il primo gruppo di SS cruenta come sa fare Tarantino poi li scotenna pensa solo la scena di Tarantino che si mette lì a fare pensa che esce fuori è una cosa mi raccontavi i dettagli questo qui mamma mia ma te che effetto ti fa? cioè nel senso a parte penso tu sia contento del fatto che Tarantino ha preso cioè è significativo di tante cose se ne potrebbe andare a parlare avanti tre giorni del fatto che comunque il Tarantino ora decida di fare un remake di un film di Enzo Castellari cioè penso che sia significativo di quanto di quanto bene hai fatto non solo a noi ci troviamo qua a ringraziarti di essere venuto ma anche a tutto al cinema mondiale credo cioè sia non è che c'è bisogno continuo continuo no no mi incuriosisce perché solitamente quando quando si trovano ci si trova in queste situazioni si dice sempre Enzo ma che effetto ti fa vedere tutti questi ragazzi che guardano i tuoi film allora io vorrei chiederti adesso Enzo che effetto ti fa sapere che comunque hai segnato l'immaginario collettivo anche di un videofilo alla fine come Kentin Tarantino Quentin anche io dico è Quentin è Quentin vabbè risponde se non lo pronunci bene magari non capisco di che stai parlando è straordinario dai vabbè inutile vabbè no ma perché siccome so che te sei però ormai se ne sono quasi abituato perché sono due anni che va avanti i contratti cose eccetera insomma do dei soldi a lui io il mio Oscar credo che sia stata la proiezione di quel film con la sala la sala grande del Lido enorme grandissima seduti noi due seduti vicino con le domande mi ha fatto questo mi ha fatto quello e al finalissimo è il primo che si è alzato in piedi applaudendomi dice my master my master beh insomma ragazzi è stato un bel momento ma certo vabbè dai questa ieri stavamo dibattendo su come sulle possibilità che c'erano comunque per i ragazzi questo è un concorso di cortometraggio e lungometraggio per i ragazzi oggi di cercare di emergere o cercare di fare cinema se tu potessi raccontare un attimino la tua esperienza io penso che potrebbe essere interessante per tutti e se tu avessi voglia oggi invece di cominciare come pensi che sia del sistema di oggi e delle differenze col sistema in passato un bambino sarebbero che vuole amare io ho avuto la fortuna straordinaria straordinaria di essere nato nel cinema perché mio padre regista mio padre ha diretto 162 film e per me da ragazzino fare la comparsa nei suoi film e poi andare sul set poi un pochino più grandicello le vacanze più belle della mia vita erano quelle che io interrotta la scuola andavo sul set come padre quando girava lui e poi soprattutto il montaggio per me quando si entrava nella sala montaggio questo odore di acetone la pellicola sentire le vocette quando si andava a marcia indietro quando si andava a velocità una magia di come quei pezzetti di pellicola messi insieme poi sorgeva fuori il film ho vissuto questo sogno realmente perché è un grande sogno realizzare un film l'ho vissuto dal di dentro e non mi sono mai sentito estraneo e con la voglia di poter conoscere per entrare ero dentro già quindi è stata la fortuna penso più grande sempre per uno che abbia la passione per poterlo fare quindi io dopo aver fatto all'artistico l'Accademia Belle Arti e Architettura la decisione più importante per me era quella di continuare come professionista come architetto invece il DNA è stato più forte e quindi ho cominciato come assistente dell'assistente dell'assistente da qui battevo il ciac andavo a prendere i caffè e tutto fino a fare quando ero l'aiuto di mio padre era anche il suo montatore quindi io facevo l'aiuto e montavo quindi era quella la cosa più importante per chiunque voglia fare cinema non parliamo di corti di televisione non parliamo di telecamere cinema per fare cinema devi conoscere assolutamente il montaggio perché è la ragione per la quale tu fai quell'inquadratura tu fai quella divisione tu realmente stai impostando agli attori e dai delle direttive dice al direttore della fotografia la macchina qua fai i carrelli fai i dettagli perché stai raccontando visivamente però il tuo montaggio ce lo devi avere in testa perché se no giri tante inquadature poi ci penserà il montatore devi avere il tuo montaggio in testa perché scrivere è straordinario se hai la facilità della scrittura e sai quello che vuoi scrivere diventa abbastanza facile realizzare o il racconto o quello che vuoi ma passare dal racconto scritto al racconto visivo è realmente un altro mondo è un altro mondo che lo devi capire allora il montaggio è determinante perché tu scrivi con le immagini già in mente quando fai la sceneggiatura e poi come regista realizzi visivamente quello che hai scritto e lo devi realizzare con quei tempi perché quei tempi che servono per il tuo racconto è il montaggio quindi non conoscendolo è realmente è come lo scrittore che non sa scrivere che ha la matita senza punta è impossibile assolutamente impossibile effettivamente c'è questo c'è questo problema appunto di cui parlavamo anche nei giorni scorsi del fatto che comunque anche quello di cui lamentavi te del fatto che non ci sia comunque più un certo tipo di autoralità in Italia che non ci sia più un approccio sistematico a un certo tipo di lavorazione un momento tanti autori ci sono vabbè ma c'è tanti autori io credo che tu parlassi di autori tu mi devi spiegare che vuol dire quello è un film d'autore non lo so ma non lo sa nessuno forse si diceva dove c'è la parola amore adesso è un film d'autore se al vedere il film ti rompi un po' le palle quello è un film d'autore è vero è vero però se autore significa scrivere il soggetto scrivere la sceneggiatura dirigerlo montarlo musicarlo fare il messaggio creare il film con le tue mani quello significa autore io lo so 52 volte come ho fatto i miei 52 film però il considerarsi autore è diverso nell'intenzione generale il film d'autore quando lo chiedi però cioè vabbè quando i grandi nomi adesso anche perché c'erano pochi che mi piacciono no vabbè tanto e invece il cinema di genere genere è un'altra cosa che mi fa incazzare perché il cinema di genere allora siccome no c'è stata questa conferenza finale sua a Venezia e c'erano i Muller c'era tutto lo staff lì c'era Gioedante Tarantino e e queste i the kings of the bees eravamo i re dei film B allora io ho detto B like beautiful allora Quentin e Gioedante sono alzati in piedi eeeh così poi hanno applaudito tutti dico se il cinema il cinema B il cinema beautiful bello bellissimo buono e basta quello è film d'autore vabbè vecchia storia dai vabbè si dice a volte io non riesco a fare questo non riesco a sfondare però c'è anche se che nove anni che devi fattiare per fare un film e proprio vuol dire che qui le osi non girano tanto bene beh ma è che il cinema purtroppo vedi che anche come come forma mentis quando qualcuno di voi dico non di noi perché per me è proprio un punto fermo e si parla dice ma poi tu con la telecamera quale telecamera la macchina da presa quale telecamera ancora con sta televisione basta con sta televisione il problema è stato è tutto lì quando purtroppo si cresce con quello schermetto del quello là insomma cresci con quello là e pensi che lo spettacolo sia quello anche perché poi al cinema ci si va sempre meno perché sei invitato forse in maniera diversa perché c'è meno pubblico le ragioni per le quali il cinema non è più quello che era il nostro cinema non le sa nessuno ce ne sono mille ce ne sono cento saranno le tre più importanti non ci sono più produttori ci sono distributori non si vende più all'estero eccetera quindi poi questi miliardi che lo stato ha elargito per anni articolo 8 7 28 31 58 tutti quei vari numeri così miliardi miliardi che favoriva il nepotismo più assoluto perché dovevi essere figlio di questo e nipote di quella cioè praticamente oggi fare un film non si nega a nessuno è fare cinema che non si fa più questa è la piccola differenza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti